Buongiorno, benvenuti a questa visita guidata di Solo Affitti. Oggi vi presentiamo un bellissimo bilocale arredato finemente a Calolso Corte. Zona giorno, con angolo cottura. Terrazzo, con favolosa vista panoramica. Camera matrimoniale. Antibagno, con armadio uso ripostiglio. E bagnetto, con doccia. Per informazioni chiamateci allo 0341 35 3644 oppure scriveteci all'ecco1.